Ha vinto sempre durante questo precampionato, ha vinto prima del ritorno in Puglia anche l'ultima amichevole, il Bitonto, quella più attendibile, giocata contro una squadra di pari categoria, la Re Canatese. Risultato finale 3-0, Reti di Montrone, Lattanzio e Palmisano. Il neotecnico Roberto Taurino è soddisfatto del test contro i marchigiani e del lavoro svolto nelle due settimane di ritiro a Camerino, in provincia di Macerata. Il bilancio è positivo soprattutto per la dedizione che hanno messo i ragazzi in questi 20 giorni, devo dire la verità. Non si sono risparmiati, abbiamo fatto fatica come è normale che sia in questo periodo, questo è il momento di fare fatica, è il momento di prepararsi per una stagione lunga, complessa, difficile e quindi se si apprende già da subito che bisogna fare fatica, poi quando arriveranno i momenti della fatica in campionato riusciremo a tenere botta. Sono contento per l'atteggiamento che hanno messo i ragazzi, il risultato conta relativamente, è normale che fa piacere vincere, è normale che fa piacere non prendere gol, abbiamo fatto delle buone cose, tante altre sono da migliorare e le vedremo. Gli allenamenti del Bitonto riprenderanno domani alle ore 17.30 sul prato del Città degli Ulivi, nel Mirino. Ci sarà l'esordio ufficiale nella nuova stagione per i Neroverdi, fissato per domenica 25 agosto in trasferta con la Fidelisandria. La gara secca del degli Ulivi, valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie D, si giocherà molto probabilmente in notturna. Sarà subito un bel test, un bel derby contro una piazza importante, blasonata, una squadra costruita bene, anche se ha cambiato gestione tecnica, è passato da un giovane che aveva fatto molto bene quale potenza, però poi è andato a prendere un allenatore di sicuro affidamento come Favarino, un allenatore che ha vinto campionati importanti, un allenatore che ha tanta esperienza dalla sua e che quindi saprà subito ridisegnare la sua Fidelisandria. Quindi sicuramente troveremo una squadra guerrita, Arcigna, perché poi Favarino è un allenatore anche molto bravo nel trasmettere la squadra a un certo carattere, le sue squadre sono sempre state toste. L'ho già affrontato in Serie C quando facevo il secondo alla Virtus, quindi so che è un bravissimo allenatore, un allenatore che ha una tempra importante, quindi ci prepareremo ad affrontare sicuramente una partita tosta. La gara di Coppa con la Fidelis, inutile nasconderlo, sarà utile anche e soprattutto per fare le prove generali in vista, poi, del battesimo in campionato, fissato per la domenica successiva a Francavilla in Sinni, il momento di cominciare a fare sul serio, insomma, in arrivo per l'ambiziosa realtà neroverde costruita dal presidente Francesco Rossiello e dal direttore sportivo Leonardo Rubini. Grazie a tutti.